Un anno e mezzo fa circa nella mia provincia, la provincia di Monza e Brianza, è emersa le cronache con particolare risalto il fatto che è stata debellata, individuata una cosca della malavita organizzata. Cosca che, se fate mente locale, tutti quanti ve lo ricordate, utilizzava addirittura sale pubbliche per tenere incontri e riunioni, che utilizzava il territorio della provincia di Monza e Brianza come discarica abusiva per i rifiuti e per prendere soldi da attività criminali. Tutta questa attività era stata denunciata dalla politica come un qualcosa contro il quale dovessimo impegnarci tutti quanti fino in fondo. E ricordo gli esponenti del Partito Democratico del mio territorio, oltre che l'onorevole Rampi c'è anche una senatrice proprio di Desio, che si erano riempiti la bocca su quanto fosse importante utilizzare gli strumenti normativi e le lodi al Tribunale che era intervenuto in primis contro questa cellula della criminalità organizzata. Era il Tribunale di Desio, che però voi avete deciso di chiudere. Il Tribunale di Desio è stato quello che, per importanza nella lotta contro la criminalità organizzata al Nord, ha preso la medaglia d'oro, perché soprattutto nella provincia di Monza e Brianza è stata individuata la maggior infiltrazione di criminalità organizzata da parte delle Andrine sul territorio Lombardo. E, giustamente, per combattere al meglio le Andrine, si è pensato di chiudere il Tribunale, che spiccava nella lotta contro le Andrine. Adesso raccontatemi pure che facciamo un bell'ordine del giorno tutti quanti, come al solito, per dire che il Tribunale è stato bravo, utile e quant'altro, e che ci impegneremo tutti quanti a cercare di tutelarlo. C'è un fatto. Il Tribunale più efficiente del territorio Lombardo per lotta alla criminalità organizzata è stato chiuso da voi. Allora, evidentemente, tutte le chiacchiere che si sono fatte su quanto fosse fondamentale tutelare i presidi che ottenevano risultati contro la criminalità organizzata erano chiacchiere che, come al solito, stavano a zero, perché il dato di fatto è che voi l'avete chiuso e che non si è fatto niente per tutelarlo e che, nonostante magistrati, avvocati, organizzazioni di categoria abbiano invocato la difesa di questo Tribunale, portando tra l'altro a suffragio i risultati tangibili ottenuti dal Tribunale di Desio, qua, chi se ne frega, abbiamo chiacchierato tutti quanti, siamo saltati sul carro del micitore quando ci sono stati i risultati e poi per ripagare i risultati ottenuti lo abbiamo chiuso. Questo è quello che si è fatto. Io chiedo una riflessione, visto che di tribunali ce ne sono tanti, sicuramente una razionalizzazione va fatta, ma non si può colpire quelli più efficienti, non si può colpire quelli più utili, non si può colpire quelli che si sono occupati, tra l'altro, di un dramma del nostro Paese che è la criminalità organizzata che, purtroppo, si sta infiltrando anche e soprattutto al nord e in Lombardia. Qua tutti quanti chiacchieriamo di quanto sia importante far sì che l'evento di Expo sia il più possibile impermeabilizzato dalle infiltrazioni criminali, ma poi chiudiamo i tribunali che si occupano proprio di prevenire questo fenomeno. Allora cerchiamo di decidere che cosa fare, cerchiamo di tutelare i tribunali che hanno dei meriti e non chiacchieriamo, come al solito, del nulla per poi fare l'esatto contrario qualche mese dopo. Grazie. Allora, se hanno votato tutti i colleghi, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 171, contrari 280, la Camera respinge.